La ragione per la quale siamo qua, in poche parole, ovviamente ognuno di noi ha la sua. Ognuno di noi avrà delle ragioni specifiche per il quale ci troviamo oggi qui. Però in un senso più profondo, in un senso più ampio, ognuno di noi desidera essere felice, nessuno di noi vuole soffrire. In fondo quello che noi vogliamo è star bene. E possibilmente desideriamo questo anche per gli altri che ci stanno intorno. Lo possiamo chiamare con tante parole belle, con tanti nomi diversi, il desiderare diventare un Buddha noi stessi per aiutare ogni essere a uscire dal samsara. Ma in parole povere quello che noi vogliamo è superare la nostra propria sofferenza in modo da poter aiutare gli altri a superare la loro. E questo è una delle cose più importanti con le quali noi ci dobbiamo connetterci in questo momento. Per fare questo, ovviamente ognuno di noi è preso dalle nostre proprie storie, ognuno di noi è preso dalle nostre proprie, chiamiamo così, le nostre proprie menate. Ci abbiamo le nostre paure, ci abbiamo i nostri problemi da risolvere, che riguardano la vita quotidiana, dalle relazioni con le altre persone, a difficoltà fisiche, abbiamo problemi che riguardano la parte materiale. Ci sono tante cose che vediamo, sentiamo la necessità di affrontare, di superare, eccetera. Però in fondo, alla base di tutto questo, c'è la necessità di superare i nostri propri veleni mentali. C'è la necessità in fondo di sviluppare uno stato interiore di stabilità, uno stato interiore di gioia, di saggezza, basato anche sull'amore. E per fare questo ci sono tanti metodi che ci sono stati trasmessi. Fra questi, la pratica di Kuru Kule, Kuru Kule, l'amor riksema, è uno di questi metodi. Esistono principalmente quattro tipi di energie, o di azioni, di forze, che sono la forza di pacificazione, che è la capacità quindi di pacificare i conflitti, le tensioni. Esiste la forza di incremento, che è quella di aumentare, di incrementare le qualità. Esiste la forza di potere, o la forza di influenza, o viene anche chiamata la forza di seduzione, che è la capacità di influenzare, di direzionare qualcosa verso ciò che è virtuoso, positivo. E poi esiste la forza di opposizione, o la forza irata, che è una forza di distruzione, che si oppone a un'altra forza di distruzione, a sua volta negativa. E quindi, in questo caso specifico, la pratica di Kuru Kule fa riferimento alla forza di influenza, di potere, di sedure. E Kuru Kule manifesta questo aspetto di poter sedure innanzitutto noi stessi. Alla base di questa iniziazione, la motivazione che c'è, possa io sedure me stesso, possa io sedure la mia mente, avere controllo sulla mia mente, direzionare la mia mente verso uno stato virtuoso. La nostra mente di solito, il nostro essere, veniamo seduti da tante cose, siamo totalmente portati via, così come immaginiamo un grande toro che viene portato dal naso, da un piccolo filo che è attaccato a un anello nel naso e questo toro viene portato via, similmente noi con tutta la nostra forza, con le nostre conoscenze, con tutto quello che abbiamo, spesso veniamo portati via dai nostri desideri, dalle avversioni, dalla rabbia, dalle varie distrazioni quotidiane dalle quali noi ci lasciamo sedure in ogni giorno. Se noi vediamo molto spesso nella nostra vita, noi siamo totalmente presi da cose che sono superficiali, da piccole piccolezze della vita di tutti i giorni, chiamiamoli così. E quello che dobbiamo fare in questo caso è riuscire come un gancio, come un magnete che tira verso di noi, riuscire a inganciare la nostra mente, sedure la nostra mente verso il Dharma. Questo è il punto fondamentale, è proprio quello di cercare di sedure, di influenzare, di avere potere su di noi, verso ciò che è effettivamente importante, verso ciò che è effettivamente significativo. Quindi uno dei significati della pratica di Kuro Kule è quello di riuscire a direzionare la nostra mente, uscendo dalle varie distrazioni quotidiane e mondane, e direzionare la mente in un modo pieno verso la pratica del Dharma, verso lo sviluppo di amore, di beatitudine, di saggezza, verso il sentiero che va verso l'illuminazione per aiutare gli altri esseri. E quindi per fare questo utilizziamo questo metodo estremamente valioso che è stato trasmesso da Buddha e gradualmente è stato tramandato da generazione in generazione fino ad arrivare a noi. In particolare la pratica di Kuro Kule è una pratica che l'Amagancia Rinpoche aveva realizzato, era una delle sue pratiche principali che a sua volta ha ricevuto da Chiapce e Cicci a Rinpoche e noi abbiamo avuto la fortuna di ricevere direttamente dall'Amagancia Rinpoche questa importante iniziazione, questa pratica di Kuro Kule. È stata la prima iniziazione che ho dato, mi trovavo in Brasile e un giorno dovevo fare una pugia del fuoco di Kuro Kule e mi sono svegliato al mattino dopo che avevo avuto un sogno particolare mi trovavo in questo sogno a San Paolo e nel luogo in cui mi trovavo era venuta una donna a prendermi che aveva preso per mano e mi aveva portato a volare sopra la città e quindi mi ricordavo, ero così, mano per mano, volando sulla città. Poi mi sono svegliato in una sensazione di gioia, di piacere e così via e mi sono accorto che non potevo fare la pugia del fuoco che ero proposto, che c'era nel programma perché non era il giorno della divinità del fuoco. Avevo fatto dei calcoli sbagliati inizialmente facendo il programma quindi non si poteva fare la pugia del fuoco quel giorno perché effettivamente non era il giorno dove c'è la divinità del fuoco. Quindi ho chiamato Rinpoche e mi ha detto Rinpoche oggi non potrò fare la pugia del fuoco come da programma però posso fare la pugia del fuoco di Vajra Daka che non richiede il giorno del fuoco. Questo era il programma, la mia idea. Rinpoche mi disse no, 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 io ero in macchina andando verso il centro. Rinpoche mi disse no, no, oggi devi dare l'iniziazione di Kuru Kule. Ho detto Rinpoche ma non c'è un testo, non c'è nulla, non c'è nessuna preparazione. e mi ha detto no, 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 tu lo sai fare, fallo, punto. Se no, non ha lasciato nessuno spazio per discutere. Quella è stata quindi la prima volta che ho dato questa iniziazione è stata particolarmente importante per me e io credo che questa pratica è importante in generale ma in particolare nei tempi in cui noi viviamo perché noi abbiamo tantissime risorse in questi tempi in cui noi viviamo però abbiamo un problema enorme di come posso dire diciamo che la nostra pratica spirituale ha una concorrenza enorme. La nostra mente ha tantissimi oggetti di distrazione e concorrenze tutto il tempo. Siamo presi da tanti oggetti che noi sentiamo che noi leggiamo che noi vediamo da tante cose che dobbiamo fare e quindi effettivamente siamo fortemente distratti. Come Atisha in uno dei suoi insegnamenti diceva di giorno siamo distratti di notte dormiamo e la vita passa. Noi abbiamo delle condizioni meravigliose abbiamo dei maestri come l'amagancerimpoce che ci ha guidato e continua a guidarci oggi ricordiamo anche sono due anni dal paranirvana di Rimpuce da quel giorno che ci sono stati quell'arcobaleno che si è visto in tutta Europa e abbiamo degli strumenti meravigliosi abbiamo dei maestri che ci guidano come l'amagancerimpoce abbiamo delle risorse materiali meravigliose dove non ci manca assolutamente nulla siamo in un luogo nella natura abbiamo un corpo relativamente sano dico relativamente perché la salute è perfetta io non ho mai conosciuto nessuno che ce l'abbia però abbiamo un corpo sano abbiamo uno stato in cui abbiamo piacere gioia nel praticare il Dharma e comunque sia con tutte queste condizioni meravigliose che noi abbiamo spesso siamo presi dalle distrazioni le distrazioni sono principalmente di due tipi ci sono le distrazioni che sono piacevoli e le distrazioni spiacevoli le distrazioni piacevoli sono principalmente gli oggetti di piacere sensoriali le cose che ci piacciono e quindi la vita passa e la nostra energia viene presa dagli oggetti desideri dalle cose che vogliamo fare dalle cose che riusciamo a fare e in qualche modo siamo distratti da che cosa? da un percorso interiore di crescita e da un altro lato c'è la distrazione delle sofferenze questo non va bene mi fa male di qua mi fa male di là perché questo ha detto perché l'altro ha fatto perché qua c'è così perché lì è cosa e quando vediamo la vita passa quando abbiamo visto sai ormai è andata il problema che la vita passi non è un grande problema noi tanto prima o poi moriamo e questo fa parte della nostra natura lo sappiamo tutti anche se ogni tanto un po' ci dimentichiamo però tutti noi moriremo e lo sappiamo e non c'è niente di male in questo il vero problema non è morire il vero problema è lasciare che questa vita passi senza usufruire al meglio di queste condizioni che noi abbiamo senza arrivare alla fine della vita e poter dire wow ho utilizzato bene questa opportunità che ho senza arrivare alla fine della vita e poter guardare indietro e dire ok sono fiero della vita che ho fatto sono cresciuto ho imparato sono una persona migliore di quella che è nata questo è quello che è importante per noi riuscire a fare ma per fare questo dobbiamo riuscire a avere controllo della nostra vita dobbiamo prendere le redine della vita sulle nostre mani direzionare le nostre azioni i nostri pensieri dobbiamo dare direzione in questo senso e la pratica di Curucule ci porta proprio a questo a prendere le redine della nostra mente nelle nostre mani venire rappresentato da questo aspetto femminile giovanile con un corpo rosso che ha nella mano destra un come si dice un gancio fatto di fiori poi nell'altra mano a sinistra verso il basso c'è anche un altro gancio e poi con le altre due mani c'è un arco e una freccia fatta sempre di fiori quindi rappresentando proprio il fatto di poter agganciare tirare verso ciò che è virtuoso in un modo allo stesso tempo dolce quindi utilizzando questo potere della seduzione però noi dobbiamo direzionare la nostra mente verso il Dharma e questo vuol dire togliere le distrazioni questo vuol dire riuscire veramente a essere padroni di noi stessi e darci una direzione virtuosa nella nostra vita e facciamo questo utilizzando quindi questo potere di seduzione ok la pratica di Curucule è una pratica che ha un grande valore e dobbiamo in qualche modo sperimentarla fare la nostra propria esperienza più che stare qui a dire tanto a parlare per delle ore spiegare eccetera eccetera però ci concentriamo su questo su questa direzione no? c'è un verso nella pratica di Curucule che finisce con possa io diventare un corretto contenitore per la pratica del Dharma questo è perciò è possa io riuscire a agganciare e a direzionare la mia mente la mia vita il mio essere verso la pratica sincera del Dharma possa io vedere come priorità nella mia vita più di qualunque altra cosa lo sviluppo di amore e di saggezza possa io riuscire a vedere la necessità dell'altro e dedicarmi per l'altro quindi possa io riuscire a sedure la mia mente all'amore alla compassione e alla saggezza grazie